Mimì è una gatta di appena un anno, molto giocherellona, dolce e coccolona. Ha un unico difetto, la troppa vivacità, che a volte la porta a commettere qualche danno in casa. È una gatta che chiede molte attenzioni e che difficilmente potrebbe trovarsi a proprio agio da sola in un appartamento, quando il padrone è fuori casa. Per questo motivo sarebbe ideale avere già un altro gatto in casa, anche egli di indole allegra, col quale Mimì potrebbe giocare. In passato, inoltre, ha avuto qualche problema gastroenterico ed è quindi consigliabile un'alimentazione composta unicamente da cibo secco o croccantini, onde evitare sgradevoli sorprese nella lettiera. Per maggiori informazioni, con una mail alla redazione, potrete mettervi in contatto con gli attuali proprietari. Francesca Diletta, Perfaenza Web TV